È necessario denaturalizzare e deburocratizzare la miseria e la fame delle persone, perché la miseria oggi ha un volto ed è più facile nutrire le guerre con le armi che le persone. Lo ha ricordato Papa Francesco nella sua visita al Programma Alimentare Mondiale, la più grande agenzia umanitaria che combatte la fame nel mondo. Accolto nella sede del PAMA Roma dal direttore esecutivo alla signora Erta Rincusin, il Pontefice ha reso omaggio al Muro della Memoria, che ricorda i caduti in missione dell'Agenzia delle Nazioni Unite, ha firmato il libro d'onore e poi ha tenuto il suo discorso nell'Aula Magna, inaugurando la sessione 2016 della giunta esecutiva del PAMA. Parlando in spagnolo, Papa Francesco ha ricordato che il PAMA è un valido esempio di come si possa lavorare in tutto il mondo per sradicare la fame attraverso la migliore assegnazione delle risorse umane e materiali, rafforzando la comunità locale. Per questo ha assicurato il sostegno della Chiesa Cattolica alle iniziative per raggiungere il tanto desiderato obiettivo della fame zero. Ed ha chiesto a tutti gli Stati membri di smettere di considerare la miseria e la mancanza di alimenti come un dato della realtà, un qualcosa di naturale. La miseria è il volto della mancanza di opportunità di tante persone e delle migrazioni forzate. Perché il fragello della fame è dovuto, ha ricordato il Papa, ad un'egoista e cattiva distribuzione delle risorse, a una mercantilizzazione degli alimenti. E chi spreca i frutti della terra li ruba alla mensa dei poveri. Inoltre è urgente deburocratizzare tutto quello che impedisce ai piani umanitari di realizzare i loro obiettivi, perché mentre le armi circolano con una quasi assoluta libertà, in tante parti del mondo, gli aiuti e i piani di sviluppo sono ostacolati da intricate e incomprensibili decisioni politiche.